Quando finalmente giunse al sicuro a Ingolside si sentì una ragazza felice. «Portò la zoppiera in cucina e la posò sul tavolo davanti a Susan. Lei guardò all'interno e per una volta in vita sua fu così sbalordita da rimanere senza parole. «Che diamine è questa storia?» chiese il dottore entrato in quel momento. Rilla raccontò tutto. «Dovevo portarlo via, papà!» concluse. «Non potevo lasciarlo lì!» «E adesso che hai intenzione di fare?» chiese il dottore con calma. Rilla non si aspettava una domanda del genere. «Potremmo... potremmo tenerlo qui per un po', no? Finché non troviamo una soluzione?» balbettò confusa. Per qualche istante il dottor Blythe camminò avanti e indietro sul pavimento della cucina, mentre il neonato fissava le pareti bianche della zoppiera, e Susan cominciava a mostrare di nuovo qualche segno di vita. Poi si voltò verso Rilla. «Tenere un neonato in casa vuol dire avere un sacco di lavoro e di problemi in più, Rilla. La prossima settimana Nan e Dee partiranno per la Redmond e al momento né tua madre né Susan possono sobbarcarsi questo ulteriore impegno. Se vuoi tenere il bambino dovrai pensarci tu». «Io!» esclamò Rilla con un certo disappunto. «Ma papà, io non posso!» «Ci sono ragazzi più giovani di te che badano ai bambini. In ogni caso potrai contare sui miei consigli e su quelli di Susan. Se non te la senti, però, devi riportarlo da Meg Conover. Con lei la sua aspettativa di vita sarà piuttosto scarsa, perché è chiaramente un bambino delicato e ha bisogno di essere accudito in maniera particolare. Anche se lo mandassimo in orfanatrofio o qualche dubbio che possa sopravvivere, ma non possiamo chiedere a tua madre o a Susan di affaticarsi ancora di più. Detto questo, il dottore uscì dalla cucina con un'espressione severa e irremovibile. Nel suo cuore sapeva benissimo che il piccolo inquilino della zoppiera sarebbe rimasto comunque a Ingleside, ma voleva che per Rilla quella fosse un'occasione per crescere. Lei rimase a fissare il bambino in ebetita. Era assurdo pensare che potesse prendersene cura a lei. D'altro canto c'era quella povera, piccola e fragile madre che era morta preoccupandosi per lui e quella orribile vecchia Meg Conover. Susan, di che cosa ha bisogno un neonato? chiese addolorata. Devi tenerlo sempre al caldo e asciutto, lavarlo tutti i giorni assicurandoti che l'acqua non sia troppo calda né troppo fredda e dagli da mangiare ogni due ore. Se ha le coliche, invece, gli metti qualcosa di caldo sullo stomaco, disse Susan con voce ancora decisamente flebile. Il bambino in quel momento ricominciò a piangere. Deve avere fame. In ogni caso è ora che mangi, disse Rilla disperata. Dimmi cosa dagli Susan e andrò a prepararlo. Seguendo le indicazioni di Susan, Rilla preparò del latte diluito con un po' d'acqua e dallo studio del dottore recuperò una bottiglia. Infine, tirò fuori il neonato dalla zuppiera e lo nutrì. Dopodiché andò in soffitta a prendere la vecchia cesta della sua infanzia e ve lo adoggiò dormiente. La zuppiera finì nella dispensa. A quel punto si sedette a riflettere e al termine delle sue riflessioni, quando il bambino si svegliò di nuovo, andò da Susan. Vedrò cosa riesco a fare, Susan. Non posso permettere che questa povera creatura torni nelle mani della signora Conover. Spiegami come si fa a lavarlo e vestirlo. Sotto la supervisione di Susan, Rilla fece il bagnetto al neonato. Susan non osò aiutarla, se non con qualche consiglio, perché il dottore era in salotto e avrebbe potuto affacciarsi in qualsiasi momento. L'esperienza le aveva insegnato che quando il dottor Blythe imponeva una decisione, bisognava fare esattamente come diceva. Rilla strinse i denti e andò avanti. Santo cielo, ma quante grinze e pieghe aveva un neonato! E come si faceva a tenerlo bene in braccio? E se le fosse scivolato e fosse caduto in acqua? Era così agitato! E poi, se solo avesse smesso di gridare! Ma com'era possibile che una creaturina così piccola facesse tutto quel rumore? Le sue urla riecheggiavano per tutta Ingolside, dalla cantina alla soffitta. «Oh, urla perché gli sto facendo male, Susan!» chiese Rilla disperata. «No, tesoro, quasi tutti i neonati detestano essere lavati. Tu non te la cavi affatto male per essere alle prime armi. Tienigli sempre una mano sotto la schiena e sta tranquilla.» Tranquilla? Rilla stava sudando come mai nella sua vita. Quando il bambino fu asciugato e vestito e temporaneamente placato con un'altra bottiglia di latte, si ritrovò bianca, come un cencio. «E stanotte che devo fare, Susan?» L'idea di dover accudire il neonato di giorno era già terrificante, ma di notte era impensabile. «Metti la cesta su una sedia ai piedi del tuo letto e coprilo per bene. Dovrai dargli da mangiare un paio di volte, perciò portati di sopra lo scaldino a olio. Se sei in difficoltà, chiamami e verrò ad aiutarti, dottore o non dottore. E se piange?» Il neonato tuttavia non pianse. Fu sorprendentemente tranquillo, forse perché il suo povero stomaco era finalmente pieno di buon cibo. Dormì per la maggior parte della notte, a contrario di Rilla, che aveva paura di addormentarsi perché temeva che potesse succedergli qualcosa. Alle tre gli preparò da mangiare, decisa a non svegliare Susan. Le sembrava tutto un sogno. Proprio lei, Rilla Blythe, era andata a ficcarsi in quell'assurda situazione. Non le interessava più che i tedeschi fossero vicini a Parigi. Potevano anche entrarci per quel che la riguardava. L'unica cosa importante era che il neonato non soffocasse e non avesse le convulsioni, perché i bambini venivano, vero? Accidenti! Si aveva dimenticato di chiedere a Susan cosa doveva fare se il neonato aveva le convulsioni. Riflettè amaramente che suo padre si era mostrato preoccupatissimo per il benessere di sua madre e di Susan, ma non aveva minimamente pensato al suo. Forse era convinto che lei potesse andare avanti senza dormire? In ogni caso non aveva intenzione di tirarsi indietro, non lei. Si sarebbe occupata di quell'orribile animaletto, a costo di morire di fatica. Per prima cosa doveva procurarsi un libro sull'igiene dei neonati, per non dipendere più da nessuno. Non avrebbe chiesto nulla a suo padre e non avrebbe disturbato sua madre. Al massimo, in caso di estrema necessità, si sarebbe rivolta a Susan, gliel'avrebbe fatta vedere a tutti. E così, quando due giorni dopo la signora Blythe ritornò a casa e chiese a Susan dove fosse Rilla, rimase sbalordita nel sentire la sua tranquilla risposta. E di sopra, signora dottora cara, sta mettendo a letto il bambino. Rilla decide. Le famiglie e gli individui che le compongono si abituano in fretta ai cambiamenti e li accettano senza troppe domande. Dopo una settimana, tutti avevano la sensazione che il bambino degli Anderson fosse sempre stato a Ingolside e dopo le prime tre notti Rilla ricominciò a dormire, svegliandosi automaticamente agli orari giusti per svolgere i suoi compiti. Adesso sapeva fare il bagnetto, nutrire e vestire il neonato come se non avesse fatto altro da quando era nata, benché né quelle incombenze né il bambino le piacessero particolarmente. Continuava a tenerlo in braccio come se fosse stata una sorta di piccola lucertola e una lucertola delicata per di più. Ma si dava parecchio da fare e in tutta Glens & Mary non c'era neonato più pulito e accudito di lui. Lo pesava tutti i giorni e annotava il risponso della bilancia sul suo diario. A volte però, tornava a chiedersi quale tragico e sfortunato destino l'avesse spinta sul vialetto degli Anderson quel giorno fatale. Shirley, Nan e Dino la presero in giro come si aspettava. Anzi, sembravano tutti piuttosto stupiti che Rilla avesse deciso di adottare un orfano di guerra. Chissà, forse in questo c'era lo zampino del dottore. Walter ovviamente non l'aveva mai presa in giro neanche prima e un giorno le disse che era una roccia. Ci vuole più coraggio a decidere di prendersi cura di quel minuscolo neonato, Rilla mia Rilla, che ad affrontare un milione di tedeschi come Farajem. Vorrei proprio essere forte almeno la metà di quanto lo sei tu. Rilla era molto orgogliosa dell'approvazione di Walter, ma quella sera stessa scrisse sul suo diario. Quanto vorrei che il bambino mi piacesse almeno un po' renderebbe tutto più facile, ma non è così. La gente dice sempre che quando ti prendi cura di un neonato alla fine ti affezioni, ma non è vero. O quantomeno non è vero per me, è solo un fastidio. Mi mette sempre i bastoni tra le ruote e mi limita tantissimo, proprio adesso che stavo cercando di avviare la Croce Rossa giovanile. L'altra sera poi non sono andata alla festa di Alice Clow, per colpa sua e morivo dalla voglia. Certo, papà non è del tutto irragionevole e posso sempre prendermi un paio d'ore di libertà, ma sapevo che non mi avrebbe mai permesso di restare fuori tutta la sera, lasciando il bambino a Susan o alla mamma. Alla fine forse è stato meglio così, perché verso l'una quello lì ha avuto le coliche o qualcosa del genere. Non scalciava e non si era irrigidito, perciò, stando a quel che dicono i libri, non piangeva per capriccio né per fame e non c'erano spile da balia che lo pungessero. Ha urlato fino a diventare tutto scuro in faccia, allora mi sono alzata e gli ho messo la borsa dell'acqua calda sullo stomaco. Lì per lì, ha urlato peggio di prima e ha tirato su le gambette. Ho avuto paura di averlo scottato, ma in realtà non credo. L'ho preso in braccio e ho cominciato a camminare avanti e indietro, anche se il libro del dottor Morgan dice che non bisogna farlo mai. Credo di aver camminato per chilometri, ero così stanca, scoraggiata e arrabbiata. Oh, se lo ero, avrei voluto dare una bella scrollata a quella creaturina, se solo fosse stata più grande. Papà era fuori per una visita, mamma aveva avuto mal di testa per tutto il giorno e Susan è un po' affesa perché quando lei e il dottor Morgan hanno opinioni diverse, io tendo a seguire quello che dice il libro, perciò non volevo chiamarla, a meno che non fosse assolutamente necessario. Alla fine è arrivata la signorina Oliver. Adesso per via del bambino dorme in camera con Nan e a me dispiace tantissimo. Mi mancano le nostre lunghe chiacchierate prima di andare a dormire. Era l'unico momento in cui potevo averla tutta per me. Detestavo l'idea di averla svegliata perché anche lei ha un sacco di preoccupazioni di questo periodo. Il signor Grant si è arrolato ed è anche lui a Valcartier adesso e la signorina Oliver ha molta paura, anche se è fantastica e non lo dà a vedere, però pensa che lui non ritornerà e ogni volta che la guardo negli occhi mi si spezza il cuore. Sono così tristi. Mi ha detto che non è stato il bambino a svegliarla, non riusciva a dormire al pensiero che i tedeschi fossero così vicini a Parigi. Quindi ha preso quel piccolo disastro, se l'è messo a pancia sotto sulle ginocchia e gli ha dato qualche colpetto sulla schiena. E lui, ha smesso di urlare, si è riaddormentato e ha dormito per tutta la notte come un agnellino. Io invece no, ero troppo stanca. Organizzare la Croce Rossa giovanile è un vero incubo. Sono riuscita a fare leggere Betty Mead come presidente e io sono diventata segretaria, ma come tesoriere è stata scelta Jane Vickers, che io detesto. È quel tipo di ragazza che finge di essere in confidenza con qualsiasi persona intelligente, distinta o di bell'aspetto, anche se ci ha malapena parlato una volta. E poi è subdola e ipocrita. A una ovviamente non importa, lei vuole solo fare del suo meglio e non le interessa se non ha una carica ufficiale. Oh, è un vero angelo. Io invece so essere un piccolo demonio quando voglio. Quanto vorrei che Walter se ne innamorasse. Ma non credo che pensi a lei in quel modo, anche se una volta l'ho sentito dire che lei era come un tè alle rose. Ed è vero. Gli altri se ne approfittano solo perché è così dolce e disponibile, ma io non permetterò mai a nessuno di approfittarsi di Rilla Blythe. Di questo potete stare certi, come dice Susan. Come immaginavo, Olive vuole a tutti i costi che ci sia un rinfresco ai nostri incontri e su questo tema si è scatenato uno scontro all'ultimo sangue. La maggioranza era contraria e quindi ora la minoranza ha messo il broncio. Irene Howard era a favore del rinfresco e adesso quando mi incontra è sempre molto fredda e mi fa sentire malissimo. Chissà se anche la mamma e la signora Elliot hanno problemi di questo genere nell'associazione degli adulti. Immagino di sì, ma mi sembra che vadano avanti come se niente fosse. Anche io vado avanti, ma non riesco a ignorare queste cose, mi fanno arrabbiare e piangere. Ma lo faccio in privato e mi sfogo solo qui, nel mio diario. Quando tutto sarà finito magari glielo farò leggere a quelle. Comunque non metto mai il broncio, detesto le persone che lo fanno. In ogni caso l'associazione è pronta a partire. Ci incontreremo una volta a settimana e impareremo tutte quante a lavorare a maglia. Shirley e io siamo andati di nuovo alla stazione per tentare di convincere lunedì a tornare a casa. Ci abbiamo provato tutti, ma non ha dato retta a nessuno. Tre giorni dopo la partenza di Gem, Walter lo ha riportato a casa a forza con il calesse e l'ha rinchiuso per tre giorni. Lunedì allora ha cominciato lo sciopero della fame, ululando giorno e notte come una banshee. Abbiamo dovuto liberarlo, altrimenti sarebbe morto di fame. Ora abbiamo deciso di lasciarlo in pace. Papà si è accordato con il macellaio vicino alla stazione che gli darà ossa e scarti da mangiare. Comunque anche noi andiamo tutti i giorni a portargli qualcosa. Lui se ne sta lì, sotto la tettoia. E ogni volta che arriva un treno corre sulla banchina scodinzolando e si avvicina a tutti quelli che scendono. Poi quando il treno riparte e lui capisce che Gem non c'è, torna deluso alla tettoia, con gli occhi tristi. Si accuccia di nuovo e aspetta pazientemente il treno successivo. Il capo stazione, il signor Gray, dice che a volte gli viene quasi da piangere a vederlo. L'altro giorno un gruppetto di ragazzi gli ha tirato dei sassi e il vecchio Johnny Mead, a cui finora non è mai importato niente di niente e di nessuno, ha preso una mannaia dal negozio del macellaio e li ha inseguiti per tutto il villaggio. Da allora nessuno si è più azzardato a dare fastidio a lunedì. Kenneth Ford è tornato a Toronto. Due sere fa è passato a salutare. Io non ero in casa, dovevo sistemare dei vestitini per il bambino e la signora Meredith si offerta di aiutarmi, perciò ero alla canonica e non l'ho visto. Ma non mi importa. Lui ha detto a nanna di salutare il ragnetto da parte sua e di dirmi di non dimenticarlo del tutto, presa come sono dalle mie cure materne. Da questo suo messaggio così insulso e offensivo ho capito che quella splendida ora passata insieme sulla spiaggia non significa nulla per lui. Perciò anche io non ci penserò più. Alla canonica ho incontrato Fred Arnold, che mi ha riaccompagnata a casa. È il figlio del nuovo pastore metodista ed è molto gentile e intelligente. Sarebbe anche bello se non fosse per il suo naso. È davvero terribile. Quando chiacchiera del più e del meno non ci si fa troppo caso, ma quando parla di poesia e ideali, il contrasto tra il suo naso e quello che dice è davvero troppo per me e mi fa venire voglia di ridere a grepapelle. Non è giusto però, perché comunque ha detto cose affascinanti. Se le avesse dette qualcun altro, Kenneth per esempio sarei stata completamente rapita. Anche lui vuole arruolarsi, ma non può perché ha solo 17 anni. In paese abbiamo incontrato la signora Elliot che mi ha guardato con aria inorridita come se stessi passeggiando con il Kaiser in persona. La signora Elliot detesta i metodisti e tutto quello che fanno. Papà dice che è un po' una sua ossessione. Intorno al primo settembre ci fu un piccolo esodo da Ingleside e dalla Canonica. Faith, Nan, Dee e Walter partirono per la Redmond. Carl si trasferì a Harbour Heed per cominciare il suo incarico a scuola e Shirley andò alla Queens. Rilla rimase da sola a Ingleside e forse si sarebbe sentita sola per davvero se ne avesse avuto il tempo. Walter le mancava tantissimo. Dopo la loro chiacchierata nella valle dell'arcobaleno si erano avvicinati molto l'uno all'altra e con lui Rilla discuteva di argomenti di cui non osava parlare a nessun altro. In ogni caso era così impegnata con la Croce Rossa giovanile e il bambino che non aveva tempo per percepire la solitudine. A volte però, quando si metteva a letto, versava qualche lacrima per l'assenza di Walter, per Jem che erava al quartier e per il ben poco romantico messaggio di saluti di Kenneth. Ma di solito si addormentava prima di scoppiare a piangere veramente. «Devo contattare l'orfanatrofio di Hopetown per il bambino?» le chiese un giorno il dottore, due settimane dopo l'arrivo del piccolo a Ingleside. Per un attimo Rilla fu tentata di rispondere di sì. Potevano mandare il neonato a Hopetown. Lì qualcuno si sarebbe preso cura di lui e lei avrebbe potuto riavere le giornate libere e le notti serene di una volta. Però quella poverina di sua madre aveva detto che non voleva che il bambino finisse in orfanatrofio, Rilla non riusciva a togliersi dalla testa il pensiero. Quella mattina poi aveva scoperto che il neonato aveva preso 250 grammi da quando era arrivato a Ingleside e si era sentita fiera di se stessa. «Ma hai detto che probabilmente non sopravvivrebbe se andasse a Hopetown?» rispose quindi. «Sì, potrebbe succedere. A volte gli orfanatrofi, per quanto siano buoni, non riescono a prendersi cura come si deve dei bambini delicati. Però tu sai cosa significa decidere di tenerlo qui, Rilla. L'ho accudito per 15 giorni e ha già guadagnato un po' di peso!» esclamò. «Magari aspettiamo di avere notizie di suo padre. Probabilmente non vorrebbe che suo figlio finisse in orfanatrofio mentre lui è via a combattere per la patria!» Il dottore e la signora Blythe si scambiarono di nascosto dei sorrisi divertiti e soddisfatti e nessuno parlò più di Hopetown. Poi il sorriso svanì dal volto del dottore. I tedeschi erano a 30 chilometri da Parigi e sui giornali cominciavano a comparire storie terrificanti su quanto era accaduto in Belgio. La vita a Ingolside si era fatta molto tesa per chi era rimasto. «Non facciamo che leggere notizie della guerra!» disse Gertrude Oliver alla signora Meredith, tentando senza successo di sorridere. «Studiamo le carte ed elaboriamo piani per sbaragliare l'intero esercito Kruk con un paio di manovre strategiche ben pensate. Già, peccato però che il generale Geoffrey non possa beneficiare dei nostri consigli. Immagino che Parigi cadrà. La prenderanno, davvero? Nessuno interverrà!» mormorò John Meredith. «Quando sono a scuola mi sembra di essere dentro un sogno», proseguì Gertrude. «Poi arrivo a casa, mi chiudo in camera e comincio a camminare. Sto scavando un solco sul tappeto di nanna. Questa guerra è così orribilmente vicina!» «I tedeschi sono già a Saint-Lie. Niente e nessuno potrà salvare Parigi ora!» si lamentò la cugina Sofia, che aveva cominciato a leggere i giornali e a 71 anni ne sapeva più sulla geografia del nord della Francia di quando era a scuola, benché non avesse mai imparato a pronunciare bene i nomi francesi. «Io non ho un'opinione così bassa dell'Onnipotente, né di Kitchener», disse Susanna orgogliosa. «Ho sentito che negli Stati Uniti c'è un certo Bernstorff che dice che la guerra è già finita e la Germania ha vinto e mi hanno detto che l'una baffuta dice la stessa cosa e ne è felice. Mi piacerebbe ricordare entrambi che è meglio non dire gatto se non ce l'hai nel sacco e che ci sono gatti che sanno vendere cara la pelle». «Ma perché la marina britannica non fa qualcosa?» insistè la cugina Sofia. «Perché persino la marina britannica non può navigare sulla terraferma Sofia Crawford. Io, comunque, non ho perso le speranze e non lo farò, malgrado quello che è successo in quei posti dai nomi assurdi come Tomassoff e Mobeuge. Signora dottora cara, sa dirmi se Rems si pronuncia Rimes, Rims, Rams o Reims?» «In realtà assomiglia più a Rhin, Susan». «Oh, maledetti nomi francesi!» «Solo lei». «Ho sentito dire che i tedeschi lì hanno distrutto la cattedrale», sospirò la cugina Sofia. «Ho sempre pensato che anche loro fossero cristiani». «Distruggere una cattedrale è già abbastanza orribile, ma quello che hanno fatto in Belgio è ancora peggio», disse Susan cupamente. «Quando ho sentito il dottore leggere di come hanno passato la baionetta anche i bambini, signora dottora, ho pensato «E se succedesse al nostro piccolo gem?» Stavo mescolando la zuppa in quel momento e ho pensato che se avessi potuto rovesciare quel pentolone bollente in testa al Kaiser la mia vita non sarebbe trascorsa in vano. «Domani, domani arriverà la notizia che i tedeschi sono entrati a Parigi», disse Gertrude Oliver serando le labbra. Il suo era uno di quegli animi perennemente tormentati che sentono su di sé tutte le sofferenze del mondo. Oltre alle sue preoccupazioni personali era distrutta l'idea di Parigi che cadeva nelle crudeli mani di quei barbari che avevano raso al suolo l'ovanio e rovinato la meravigliosa cattedrale di Reims. Il giorno dopo, e quello dopo ancora, arrivò invece la notizia del miracolo della Marna. Rilla corse a casa dall'ufficio postale sventolando l'Enterprise con il titolo scritto in rosso in prima pagina. Susan si precipitò fuori a hissare la bandiera con le dita tremanti. Il dottore si aggirava per casa mormorando «Grazie a Dio!» e la signora Blythe piangeva, rideva e poi piangeva di nuovo. Dio ha teso la sua mano e li ha toccati e ha detto «Fin qui giungerai e non oltre, come nel libro di Giobbe», disse quella sera il signor Meredith. Al piano di sopra, Rilla mise a letto il bambino cantando «Parigi era salva, la guerra era finita, la Germania aveva perso e presto le cose sarebbero tornate a posto, Gem e Jerry sarebbero tornati, la nube nera era passata». «Non ti azzardare ad avere le coliche proprio stanotte», disse al bambino. «Se lo fai, ti rimetto in quella zuppiera e ti spedisco a Hopetown con il primo treno, anzi con il treno merci». «Hai dei begli occhi, sai? e non sei più tutto rosso e grinzoso, però non hai neanche un capello e le tue manine sembrano piccoli artigli, continui a non piacermi per niente. Ma spero che la tua povera mamma sappia che te ne stai bello al calduccio in una comoda cesta con un po' di latte, la dose consigliata dal dottor Morgan, invece di morire di fame con la vecchia Meg Conover. Spero anche che non sappia che la mattina del primo giorno, quando Susan non c'era, mi sei caduto in acqua e ti ho quasi annegato. «Ma perché devi essere così scivoloso? No, non mi piace, non mi piacerai mai, ma comunque farò del mio meglio per farti crescere decentemente, diventerai cicciottello come ogni bambino che si rispetti, tanto per cominciare». «Non voglio che la gente dica in giro «Ah, che creaturina minuscola è il bambino di Rilla Blythe», come ha detto la vecchia signora Driu l'altra sera alla riunione della Croce Rossa. «Se anche non riesco a volerti bene, ho intenzione, quantomeno, di essere orgogliosa di te». Grazie. 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 Grazie.